Considerate le enormi riserve di petrolio detenute dal Venezuela, che tipo di impatto avrà la morte del presidente Chavez sul mercato del loro nero? L'impatto può essere il prezzo del petrolio rivisto a ribasso, è ovvio che potrebbe aumentare l'offerta di petrolio venduta al mondo intero, nel senso che il Venezuela con un presidente un po' più democratico, se ci sarà, perché qui bisogna mettere un sé grosso quanto una casa, potrebbe dare spazio a nuovi appalti per le imprese internazionali di trivelazione nel sottosuolo e quindi scoperte di nuovi giacimenti, eccetera, eccetera, e quindi più offerte di greggio nel mondo. Quindi l'impatto potrebbe essere aumento dell'offerta di greggio, diminuzione del prezzo. Da inizio anno i prodotti a replica con sottostante l'oro fisico hanno scaricato circa 140 tonnellate. Cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Il mercato ha sempre ragione. Quindi dieci anni di fila l'oro sostanzialmente ha aumentato di prezzo e ha avuto grandissimi consensi. Basta pensare che l'ETF sull'oro negli Stati Uniti è l'ETF più venduto come singolo ETF e anche in Europa gli etici sull'oro sono tra i più popolari, tra gli investitori privati e istituzionali. Negli ultimi mesi gli investitori istituzionali vedono il bicchiere mezzo pieno e stanno vendendo oro a favore di altre asset class. Io credo invece che lo Standard & Poor's e il Russell 2000 siano degli indici ai massimi e credo invece che l'oro sia un'opportunità. Però il mercato in questo momento, la cosa è bella perché varia, ha un'opinione diversa dalla mia. Considerata la grave situazione di stallo politico-economica, se non sarà l'oro a beneficiarne, possiamo pensare a un possibile rialzo degli altri metalli preziosi e in particolare dell'argento? Sì, però io penso che, proprio considerando il grave stallo, non solo italiano e non solo europeo, ma non dimentichiamoci che anche gli Stati Uniti sono ancora, nonostante qualche miglioramento, sono ancora con la disoccupazione record. Bernanke ha detto al congresso che stamperà moneta fino a quando la disoccupazione sarà superiore al 6,5%. Quindi siamo ancora lontani da questo obiettivo, continueranno a stampare moneta. Stampando moneta, l'oro è una moneta che non si stampa e non da tassi di interesse. Se il dollaro e le altre monete si stampano e danno tassi di interesse zero, gli investitori che cosa fanno? Vendono le altre monete, comprano oro. Argento, in francese si dice argent, quindi vuol dire moneta in francese, l'oro e l'argento sono delle monete, sono complementari e quindi intendono andare nella stessa direzione. L'argento è un po' più volatile dell'oro. Sì, io vedo queste due alternative, oro e argento alla crisi. Passando invece ai metalli industriali, qual è la view di ETF Securities? La mia view personale è negativa. La view della ricerca di ETF Securities è invece estremamente positiva. I metalli industriali sono consigliabili all'investitore che vede il bicchiere mezzo pieno. Nel senso che le aziende prima di aumentare il loro valore azionario devono vendere, devono dichiarare vendite, devono dichiarare profitti ogni quarter, ogni quadrimestre. Prima di dichiarare profitti devono vendere al mercato, prima di vendere devono produrre, prima di produrre devono comprare metalli industriali. Quindi i metalli industriali sono un anticipatore della ripresa economica. Chi gioca ai metalli industriali gioca alla ripresa economica. Negli ultimi sei mesi i metalli industriali sostanzialmente, tranne Platino e Palladio, non sono aumentati di prezzo. Questo vuol dire che le aziende non stanno vendendo e non stanno comprando. Quindi i valori di borsa delle aziende sono puramente speculativi, sono puramente dovuti alla Federa Riserva, secondo me. Ecco perché sono negativo sui metalli industriali. Cosa ben diversa invece è Platino e Palladio. Particolarmente di Palladio, il valore aumentato, perché il Sudafrica è il secondo più grande produttore di Palladio e anche di Platino. Benché il mercato delle barmette catalitiche non sia un mercato che vada benissimo, cioè il mercato dell'automobile è ciclico e va bene soltanto in Asia. Il fatto che manchi offerte di Platino e Palladio causa forti scioperi in quelle zone ha fatto decollare il prezzo. Quindi questa è la view di TF Securities, però sui metalli industriali è generalmente molto positiva. La mia è un po' differente.